Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Riaperto al traffico, Viale Bruno Buozzi. La strada nel quartiere Parioli era chiusa dalla metà di dicembre, dopo che la rottura di una condotta idrica aveva provocato una voragine di 5 metri per 4 alla chiusura della strada da Viale delle Belle Arti in direzione di Via Gramsci. Conclusi i lavori a cura di Acea e del Dipartimento Lavori Pubblici, la strada è stata riaperta al traffico. Un nuovo cantiere si annuncia su Via Salaria e in Viale Liegi, questa volta per l'apertura di cavi stradali. Dal 12 al 28 aprile su Via Salaria la circolazione da Via Tirso a Viale Regina Margherita sarà a senso unico. Senso unico di marcia anche in Via Boccherini da Via Cimarosa a Via Salaria per il periodo dei lavori. Le altre notizie. Normale servizio festivo per il trasporto pubblico nei giorni di Pasqua, domani e lunedì. Questa notte le linee della Metropolitana prolungheranno l'orario come sempre nel fine settimana con le ultime corse da Capolinea all'1.30 di notte. Domani e lunedì poi Via dei Fori Imperiali sarà Isola Pedonale per due giorni. Le linee 51, 75, 87, 118 e di notte la NMB saranno deviate su percorsi alternativi. Resta comunque aperta la stazione Colosseo della Metro B. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.